Andrea Conti, 7 luglio 2017, 7 agosto 2017. È passato un mese da quando sei arrivato in Rosso Nero. Fai un bilancio di questo primo mese qui al Milan? Un mese assolutamente positivo. Tutte le buone sensazioni dell'inizio sono state confermate. Sono molto contento di essere qui, di lavorare con questi grandi compagni, ottimi giocatori ma grandi persone. Speriamo di continuare così. Hai già giocato le prime partite in Rosso Nero, in Europa League, quindi anche la possibilità di giocare in Europa. Intanto l'emozione di giocare in Europa con questa maglia. Poi ti chiedo anche della partita. Molto emozionante. Poi giocare a San Siro è stato incredibile con tutta quella gente. È un'emozione incredibile. Sei un caso rarissimo di un giocatore che è stato applaudito dopo aver concettualmente sbagliato un gol. Ti ha un po' sorpreso come cosa? Ti ha fatto piacere? Vuol dire che di per sé sei già entrato nel corso dei tifosi e hanno capito anche lo sforzo che avevi fatto? Sì, sinceramente non ci ho fatto neanche caso, però è stata un'azione un po' rocambolesca. Gli applausi del pubblico fanno sempre piacere perché ti sostengono anche nei momenti non positivi. Adesso bisogna chiaramente proseguire. Prossima partita a Catania contro il Real Betis. Cosa ci aspettiamo? Quanto è importante questa partita nella crescita che state facendo? Sarà una partita importantissima, un ottimo allenamento per trovare sempre di più la condizione. Perché poi la partita successiva sarà ancora la qualificazione d'Europa e dovremo arrivare nelle migliori condizioni. Andrea, state facendo tante partite nel corso di questo precampionato contro squadre di altre nazioni. Quanto è importante questo anche proprio per prepararvi per il palcoscenico internazionale? Perché poi avendo l'Europa League dobbiamo essere pronti chiaramente a giocare con squadre diverse e appunto la prossima sarà spagnola che un po' mi mancava. Come hai detto te servono per iniziare ad abituarci all'Europa perché quando giochi in Europa è completamente diverso che giocare in campionato. e serviranno appunto da allenamento per quando e se riusciremo a entrare in Europa League. L'ultima cosa per me era un po' che non giocavi con la difesa 4, come ti stai trovando invece in questa linea 4 del Milan con Montella? No, mi sto trovando molto bene anche perché è una linea 4 un po' particolare, vuole terzini molto alti. Per me viene decisamente tutto più facile e spero di continuare a migliorare.